Tutti passati i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di ieri a Nocera Inferiore. Con l'astenzione della minoranza il gruppo del sindaco Maglio Torquato ha votato compatto il consuntivo 2015 e il previsionale 2016. L'assise si è sciolta nel primo pomeriggio dopo alcune ore di discussione. Dal Consiglio è venuta fuori una maggioranza ancora più ampia. Il consuntivo è passato infatti con 18 voti. Il primo cittadino è raccolto anche il sì di Pio Vecchione. La squadra di Maglio Torquato va avanti dunque senza freni verso il 2017 caratterizzato dall'appuntamento elettorale. Se sente gli interventi, sono interventi così sporadici, di fatto disarticolati. Uno di quei consiglieri che ci contestava ci ha afflitto per tanti anni che non partivamo col porta a porta. Finalmente siamo partiti col porta a porta. Penso che l'amministrazione sta facendo tante cose. Tante altre ne vanno fatte. Ma noi parliamo di continuità. Noi siamo quelli della continuità istituzionale, non del continuismo da pensionati ai giardinetti. Pensiamo a qualche cosa di serio. Che l'amministrazione è un'amministrazione che vive sul lavoro istituzionale di continuità di una città. Giusta le cose che non vanno. Sarà suscettibile di miglioramento e ci impegniamo per quello. I numeri nostri, cioè quelli delle nostre attività di bilancio, di risanamento finanziario, suscettibili come tutte le cose, ovvio dirlo, di miglioramento, sono numeri certificati dalla Corte dei Conti regionali. Quindi non da un soggetto politico che può dire il bello e il cattivo tempo a seconda delle proprie convenienze. E danno conto di un'azione di risanamento importante, di una grandissima riduzione della spesa, di una capacità di recupero migliorabile ovviamente, ma di recupero sulla riscossione, di aver liquidato. Oggi i grillini fanno in tutta Italia tanto propaganda su Equitalia. Nessuno ricorda, non c'era, che la nostra amministrazione nel 2012 al primo insediamento licenziò Equitale come soggetto di riscossione. Abbiamo tagliato la spesa, l'abbiamo tagliata su questioni importanti che tutti ricorderanno e che avevano portato questo ente all'impazzimento generale dal punto di vista finanziario, dal punto di vista delle spese dirigenziali, delle spese per gli apparati politici, per l'indibitamento per spese in conto capitale, per la stessa spesa corrente. Sono fatti, non sono opinioni, non parliamo di miracoli perché mi pare effettivamente eccessivo, ma sicuramente di un buon lavoro. Non si sono fatti attendere le critiche dell'opposizione. Per l'ex PD Antonio Iannello il previsionale è la fotocopia del consuntivo 2015. Non c'è nulla di nuovo per la città. Non si parla più di mitigazione del rischio frana, ha detto Iannello, o di Montevescovado. Accuse anche al presidente Guido Tafuro sulla mancata convocazione della Commissione Bilancio. A causa di alcuni cambi di deleghe, si difende Tafuro, sono stato impossibilitato a convocare la Commissione Bilancio perché non c'era il decreto sui componenti. Per questo, in extremis, ha aggiunto il presidente del Consiglio Comunale, ho convocato la riunione dei capigruppo. Era l'unica cosa che potevo fare.